L'ingegneria è un processo di esplorazione, è passione che si accende, trasformazione continua, energia, movimento e competizione. La nuova scuola di ingegneria dell'Università degli Studi di Padova è proprio questo. Progettata per ridisegnare l'ambiente universitario e renderlo smart, efficiente e performante. Ospiterà 3.000 studenti su quattro piani, attraverso spazi pensati per lo studio collettivo, lo svago e l'interazione fra studenti e didattica, plasmando un organismo complesso e integrato, progettato sul modello delle maggiori università europee. Le aule di ampie dimensioni saranno allestite con arredi funzionali, dispositivi multimediali, prese di ricarica e adeguata copertura Wi-Fi per vivere la didattica in modo immersivo, consentendo di superare la didattica frontale tradizionale ed esplorare setting didattici innovativi. Costruita con una tecnologia a telaio mista, il legno lamellare, il slam e acciaio sarà ecocompatibile, innovativa e sicura. Un progetto ambizioso e all'avanguardia che rinnova l'organizzazione della didattica universitaria per offrire nuovi spazi e nuovi servizi agli studenti. Hub dell'innovazione dell'Università degli Studi di Padova. Accendiamo il futuro!